Gabriele Labarbera, atleta della sezione giovanile Fiamme Oro di Pesistica di Caltanissetta, è stato convocato per partecipare ai prossimi campionati mondiali Yout di Durazzo, che si svolgeranno dal 24 marzo al 1 aprile 2023. Gabriele, già campione italiano Under-17, ha ottenuto la medaglia di bronzo ai campionati europei Under-15 nel 2021. Il giovane atleta nisseno attualmente si sta allenando al centro di preparazione olimpica Giulio Nesti di Roma, sotto la direzione del direttore tecnico nazionale Sebastiano Corbu. Ottimi segnali da parte della pesistica nissena, dove altri ragazzi si sono distinti lo scorso fine settimana a Ficarazzi, come Federico Labarbera, Manuel Di Maria, Mattia Riggi e Ginevra Panebianco. Sono molto emozionato ma allo stesso tempo tranquillo perché il lavoro c'è e sta andando bene. Quindi si punterà ad andare in pedana a fare il massimo. Quello che viene, viene. Speriamo in una medaglia. Sono convinto che anche a Caltanissetta riusciranno a dare grandi soddisfazioni perché sono forti e pieni di talento.